Le inefficienze del sistema infrastrutturale e logistico italiano pesano tra i 25 e i 35 miliardi di euro all'anno, cioè tra l'1,5 e il 2% del PIL. È quanto è emerso durante il convegno dal titolo Infrastrutture Digitali e Logistica delle Merci, priorità strategiche per Genova e per l'Italia, organizzato a Genova da UIRNET, soggetto attuatore del MIT, per la digitalizzazione della filiera logistica e logistica digitale, società che gestisce la piattaforma logistica nazionale, un sistema di Intelligent Transport Systems creato per concentrare dati e derogare servizi di sistema a tutti gli operatori e stakeholders della logistica e dei trasporti. All'incontro, oltre al viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, al sottosegretario della pubblica amministrazione Mattia Fantinati e al sindaco di Genova Marco Bucci, hanno partecipato tra gli altri Rodolfo De Dominicis, presidente AD di UIRNET, e Fabrizio Perrone, AD di Logistica Digitale, che hanno sottolineato come la realizzazione e la messa in esercizio di infrastrutture digitali sia essenziale per lo sviluppo socio-economico dell'Italia, ma anche per recuperare la competitività persa negli ultimi vent'anni rispetto ai porti del nord Europa e a quelli emergenti del Mediterraneo. L'Italia, infatti, rimane tra i grandi sistemi portuali europei e mondiali, ma con rischi crescenti al ribasso e di progressiva marginalizzazione dalle grandi rotte del commercio internazionale. Per il viceministro Rixi, il sistema portuale della Liguria in particolare è uno dei più avanzati a livello di digitalizzazione, ma c'è ancora molto da fare. Noi abbiamo un processo molto più difficile da digitalizzare rispetto ad altri paesi, visto che ad esempio sull'autotrasporto abbiamo tante piccole, piccolissime aziende. Quindi dobbiamo creare dei sistemi che siano flessibili e che possano consentire a tutti di poter partecipare, e quindi mettere insieme il tavolo dell'autotrasporto, quello della logistica, quella della pianificazione e anche dei sistemi informatici è fondamentale. Noi tra l'altro su questo, prima dell'estate, faremo alcune giornate di workshop con tutti gli operatori del settore, prima sulla logistica e i porti, un tavolo nazionale, e poi anche sull'autotrasporto, proprio per darci tutti quanti delle direzioni, perché è evidente che dobbiamo traghettare l'intera filiera logistica italiana verso uno sviluppo futuro senza lasciare nessuno indietro. Secondo i dati presentati durante il convegno, l'impatto positivo e i benefici generabili dalla piattaforma logistica nazionale in termini di recupero di efficienza nel sistema si attestano su valori compresi tra 7 e 10 miliardi di euro, pari al 7,5% del PIL nel settore logistico e allo 0,5% del PIL italiano. La logistica è in prospettiva uno dei settori con il maggior tasso di trasformazione e cambiamento, sia a livello operativo che strategico. Infrastrutture e operatori hanno già iniziato a sperimentare e utilizzare soluzioni in connettività abilitate dallo scambio di dati e informazioni, spingendosi in aree dove il fisico e il digitale convergono, ma purtroppo si tratta ancora di iniziative isolate. Per i promotori del convegno il salto di qualità avverrà quando tutto il sistema sarà connesso, integrato e automatizzato e la città di Genova rappresenta già una sorta di laboratorio a livello nazionale per la digitalizzazione dei processi logistici, come conferma il sindaco Marco Bucci. La cosiddetta supply chain, come viene chiamata nel mondo, è uno dei punti di forza della nostra città su cui noi vogliamo che si figuri lo sviluppo della città nei prossimi 5, 10, 20 anni, quindi per noi è un fattore chiave. La logistica oggi deve essere gestita non più soltanto come lo è sempre stato, cioè con questioni di mezzi e uomini, ma deve avere una piattaforma digitale dove si possono scambiare informazioni e magari anche scambiare strutture finanziarie come la blockchain o cose di questo tipo. E proprio sul porto di Genova, UIRNET e Logistica Digitale sono impegnate a realizzare soluzioni innovative usando la leva del digitale per offrire a tutti gli stakeholder, operatori logistici, mondo produttivo e imprese servizi sempre più all'avanguardia, sicuri e di alta qualità, con benefici potenziali enormi per tutto il paese.